Ciao ragazzi da Marsala, benvenuti a questa nuova guida video, guida, guida, video, eccetera. L'avventura di Naxxramas eravamo rimasti a... ovviamente eroica con un mazzo gratuito. Siamo rimasti a Gothic, questo ancora me va per l'ossa, come si dice dalle parti nostre. Ok, Gothic il falciatore che cos'ha? Un'abilità poco poco bastardo, ovvero un poterero in cui pesca una carta e ottiene cristallo di mano, ovvero va a velocità doppia rispetto a noi. Abbiamo fatto un paladino per cercare di affrontare il suo simpaticissimo mazzo. Ora vediamo quanto bisognerà sanguinare per riuscire a farlo. Oh, soldama Liadrin, vedi un po' quello che poi fai. E' il martello mia brucia col fuoco, quello sagro. C'è presente? Sì, bella, bella riga. Comunque adesso, a parte questo. Oh mamma mia. Carte dal casting cost, sì, dal casting cost piuttosto elevato. Diciamo che... ecco, dovete subito usare il suo potere eroe. E con due mana gioca il ghoul, che è tutto sommato. Insomma, alla fine non è che... Benissimo. Allora, in teoria rispetto al passato, il suo mazzo dovrebbe essere stato nerfato ai tempi del becchino, appunto, che adesso prende solo attacco. Ai tempi, diciamo che adesso il becchino si rompe facile rispetto a una volta. Ovviamente, insomma, anzi, vi dirò che a questo punto io attendo l'oe una volta sarebbe stato quasi devastante questa situazione. Ecco. Esatto. Infatti, come vedete, lui prende, sì, del punteggio in attacco, ma, ovviamente, con questa riusciamo a parcheggiarli abbastanza bene, tutto sommato. Viva, vedete? Avevo un guerriero spettrale sotto il controllo dell'avversario. Se non mi sbaglio... Ecco, mi ricordavo che c'era questa situazione. Ok, c'era questa situazione non bella, perché mi sembra che questi guerrieri spettrali fanno un po' male. Adesso non ricordo esattamente cosa fanno, ma mi ricordo che non erano proprio amichevoli. Ecco, insomma, c'è stato questo problema. Ma io quasi quasi ne proverei subito uno, giusto per... Aspettiamo, ah. Aspettiamo di vedere cosa succede. Ora farò un basic trade proprio. Mi sembra che mi fanno danno, adesso non vorrei dire niente, ma... E vai, subito, mettiamocela là, perché, beh... Ok, vuole che questo... Ok, questo guerrieri spettrale fa un danno... Altro me l'ha ucciso, quasi quasi, potrei pure ringraziarlo di questo tipo di... Così, due danni aggra... Ok, vabbè, tanto, insomma, voglio dire, non è che... Oh, e questo in effetti potrebbe essere abbastanza piacevole, anche se in questo momento non è che sia proprio una cosa risolutivissima. Magari io riesco in qualche maniera a reggere un turno, tipo così... No? Poi riesco a curarmi un po'... Esatto. Riesco magari a... Ci vanno così senza colpo ferire, vai. Tranquillamente senza pietà. Ma non casta nulla, è incredibile, questo è... Una sorta di buco di culto, incredibile. Potrei anche fare una... Simpatica consacrazione immediata, ma... Mi troverai a sette con due di quei cosi, insomma, non è piacevolissimo come situazione, quello è vero. Però potrei anche... No, di là di farla, perché effettivamente... Gli ammazzo troppa roba, e non è brutta come cosa. Soprattutto nel momento in cui mi metto questo qua. Questo chiaramente mi farà un danno all'inizio del turno, però abbiamo come baffarlo in un certo senso, quindi... Possiamo... Ecco. Appunto, l'ontrata, no, mi va direttamente... Questa non l'ho capita, ma a me sta benissimo, tra l'altro me lo uccide pure, ma... Poi ci possiamo pesantemente accontentare di ciò che è successo ora, direi. Tra l'altro vi dirò di più che è possibile anche che io me lo voglia tenere adesso, questo... Questo spadone. Ok, pesca una carta in più, però insomma non è che... Vabbè, adesso questo... Davalcare pure impietoso, non ti dico no, però... Ah, or bene. Perfetto. Perfetto, 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 vediamo, allora... Se io gli do più uno in attacco, me lo schiatto? Non me lo schiatto, ma me lo schiatto al prossimo turno, comunque sia. Quindi... Ok, abbiamo uno, sei, e tra l'altro... Vi ricordo che a questo punto potrei pure... Pensare di andare a quattordici... Dobbo pomparlo, sono un bel po' di danni comunque già, eh, quindi alla fine vediamo un po' che cosa viene giù. Ancora un abominio... E la corruzione sul cosa? Sul... Metti la corruzione sul tuo, io onestamente... Ancora corruzioni, dove la metti? Anche di là? Vabbè. Se il tizio vuole mettere la corruzione, gli mettiamo la corruzione, che problema ci sta? Tanto adesso sbraichi tutto, no? Oh! Eh, via! Gli mettiamo la corruzione, poi mettiamo questo tower. Ma diciamo che non siamo messi male, perché si è giocato parecchie carte, io sto a 9 e al momento non è che... Però, insomma... Ancora un abominio, perché siccome... Non ne aveva abbastanza... Alchivista folle per fare che? Guarda, ti ringrazio, e questo non è che... In realtà in questa maniera me lo salva anche... Gli dirò che gli faccia 3 danni e pesca una carta... Ma questo è ottimo, nel prossimo turno soprattutto, perché comunque alla fine sopravvive... Vabbè, mi è arrivato un piccolo pippa qui, però insomma alla fine... Anzi, vi dirò che a questo punto lo pompo pure... Prossimo turno... Prendo un danno, ma il guardiano del re... Prendo un danno, ma il guardiano del re... In questa maniera andrà faccia... Quindi no, direi di fare così... Ok, vediamo, vediamo... Eh, questo non ci voleva... No, questo così ci voleva benissimo... Questo così va più che bene... E va bene, ok, ci fa un po' di camminaccio... Ci sta bene... Riduciamo l'attacco di un servitore a uno... Ok... Purtroppo i danni che prendo sono due... Questo è male, però adesso lui va in fatigue... Attenzione perché lui va in fatigue adesso... Bisogna semplicemente cercare di resistere... Semplicemente, tra virgolette... Eh, questo andrà faccia, purtroppo... Eh, se... Aia, tre danni sono brutti... Tre danni a turno sono bruttissimi... Speriamo che arriva una cura... Se no è finito... U, P4 P4 ha un servitore... Allora io ho tre e tre sei servitori... Se io... Faccio così... Poi... Vi gioco questo e ci sbrago lui... Non mette servitori... Non mi da nessun servitore... E così neanche non mi da alcun servitore... Adesso niente... Bisogna solo cercare di resiste... Perché non me fa tre danni... Eh, si prendo sti tre danni... Purtroppo non c'è modo di toglierli... Adesso mi dovrebbe arrivare una cura... Se non mi arriva una cura... Aiaiai, questo è male... Mi sa che ho perso, eh... Mi sa che non so tutti... Eh, guarda che sfiga... Invece forse... GG! E siamo riusciti a farla al primo try... Vabbè, oh... Eh... Diciamo che per contrappasso... Mi è andata abbastanza bene... Mi è andata abbastanza bene... Allora... Adesso vi faccio vedere come ogni volta il mazzo... Ok... Ehm... Dunque... Eccolo qua... Gothic... Due benedizioni vigore... Due umiltà... Due granta dell'ubi bianchi... Due luci secolo... Due capo incursione... Due chierica sull'infranto... Due grizzly pelo duro... Due benedizioni del re... Due consacrazioni... Due costruttori di draghi... Costruttrice anzi... Due guardiano senji... Due martello dell'ira... Due spadoni di vero argento... Due campioni dell'arena... E due guardiani del re... Come al solito... Se vi è piaciuto mettete un like... Ci vediamo alla prossima... Videoguida... Ciao da Marsala... Ciao... Grazie...